cos'è successo disposto il sequestro d'urgenza del cpr di milano oggetto del sequestro è la società che gestisce il cpr attenzione non le condizioni del cpr in sé leggiamo cosa appunto dice mai più lager noi cpr ipm di milano hanno disposto un sequestro impeditivo d'urgenza della società martinina srl che gestiva il centro di permanenza per i rimpatri di via corelli a milano il cpr era stato oggetto di ispezione nell'inchiesta per frode e turbativa della guardia di finanza lo scorso primo dicembre da cui era emerso che i migranti tra le altre cose non ricevevano cure e mangiavano cibo scaduto sapete se andate a vedere sul sui vari profili di mai più lager noi cpr vedete le foto appunto del cibo avariato delle condizioni delle di persone buttate per terra che sostanzialmente non hanno niente da perdere eccetera si attenzione una cosa l'inizialmente era girata la voce che fosse spesso sotto sequestro il cpr invece no nel sequestro è fatto per la società che lo gestisce questo non vuol dire che oggi chiude il cpr di milano questo no questo però significa che l'attenzione è alta e che forse finalmente qualcosa si è mosso io sono contento perché quando lo stato fa questo tipo di operazioni devo dire che insomma un po di speranza torna spesso volentieri siamo troppo attaccati alle brutte cose noi siamo una generazione poi che insomma è anche facile che la pensi male non so come dire se è cresciuto col giotto di genova se è cresciuto con aldovrandi cucchi cioè non è facile a volte difendere certe situazioni quando è così che torna lo stato di diritto che insomma si cerca di sistemare le cose che quindi mi viene a dire forse lo stato in realtà non è che ti abbandono cosa è proprio lento ci mette tanto da arrivare sono anni che denunciamo queste situazioni soprattutto la rete non lagga no ai cpr ma è mai più lagga una cpr tanti senatori hanno denunciato questa situazione non solo al cpr di viacorelli ma in tutta italia finalmente si è arrivato qualcosa serve non era ora però mi viene da pensare che forse ovviamente a volte noi ragioniamo come se fossimo noi a poter fare le cose come comunque in casa vuoi spostare un mobiletto e le cose sono molto molto più complesse quando c'entra lo stato è vero però la piccola critica che mi permetto di fare c'era bisogno di avere un servizio al tg1 al tg2 al tg3 quello che per attirare l'attenzione su questo fatto ecco questa cosa invece è un po la sì la delusione arriva da quello dal fatto che insomma finché si denuncia finché si va per i canali ufficiali perché finché si va in tribuna così sembra che le cose finiscano nel dimenticatorio poi basta un articolo di giornale un giorno sono le iene l'altro giorno è report l'altro giorno è striscia notizia perché poi quello e anche lì poi attenzione perché quando parliamo di report parliamo di redazione quando parliamo striscia notizia sappiamo che non è una testata giornalistica cioè è un programma di trattenimento anche le iene sono infotainment non è una più tainment quindi viene da capire io dico sempre quello è possibile che quando arriva il gabibbo le situazioni a volte si risolvono ma finché arrivano le carte bollate no e questo è un po che lascia lascia perplesso fa capire soprattutto il grande potere che abbiamo ci metto anche noi cioè che abbiamo noi che possiamo fare comunicazione noi che possiamo parlare con la gente ovviamente all'ennesima potenza quando sei su certi canali poi forse è sempre stato così ma non lo sappiamo cioè adesso vuoi andare a vedere non so forse è sempre stato così ma non avendo i social non avendo le possibilità di informarci noi le cose accadevano ma non lo sappiamo infatti ma adesso non so appunto come fosse nel medioevo quando mettevamo le locandine col chiodo sul palo della cuccagna in mezzo alla piazza nel senso molto probabilmente sì bastava forse mia mamma diceva sempre chi l'avusa più se la vacca le sua cioè diceva sempre chi fa più rumore poi alla fine si porta a casa il risultato il nuovo urlare il nuovo farore quella roba lì un nuovo poi insomma neanche più di tanto nuovo è un po stancato quello sì andiamo avanti con la musica vai vai tu vuoi tanti ricordi? non è che bisogna per forza trovare il gancio no 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 assolutamente se tu non ne hai o se ne hai tranquillamente Marco Mengoni tutti i miei ricordi qui su Cristal Radio va bene mi piaceva fare va bene ok andiamo avanti Marco Mengoni tutti i miei ricordi tutti i miei ricordi tu quanti ne hai? eh diversi ah ok non ci interessa andiamo avanti non ci interessa un centinaio così un tanto al chilo sto scherzando lo so un po un po un tot questo è il periodo dell'anno in cui siamo più nostalgi in cui si fanno i rapid si fanno i ricordi quindi ci stanno un po si fanno i bilanci di fine anno ma quelle sono solamente tendenze social no beh no dai bilancio di fine anno si fa i buoni propositi bilancio di fine anno buoni propositi ok ma il fatto di tutte cose inutili ricondividere recap vari è di è prettamente social allora ti dico sì però se ci pensi tra una settimana tutte le trasmissioni possibili immaginabili in televisione faranno il recap di qualsiasi cosa che c'è questo anno perché i conduttori sono invalti sono a fare la settimana bianca quindi fanno il recap il telegiornale fa che cosa mi stai persi nel 2023 era meglio perderseli che vivere certe cose insomma no no quello sicuramente quello sempre non vuoi fare un bel video con le medaglie vinte dagli sportivi italiani no ma quello ci sta ma quello ci sta il giorno dopo non ti ricordi neanche chi sono il giorno dopo però ah no però l'abbiamo anche fatto tutti per loro sì quest'anno chi salva Sinner Sinner Tamberi ha vinto qualcosa altro può essere capisci ecco pensa a te cioè Tamberi uno che ti sembra che ha vinto la staffetta sì ma sembra che ha vinto nel 21 nel 1921 fra un po' era il 21 mi sa no ma infatti nel 1921 sembra chissà quando ha vinto era un altro ieri praticamente no comunque sì è solo la questione social e beh non facciamo quello che fanno gli altri nel senso il problema qual è lo fa il TG1 allora lo faccio anch'io ecco è quella la cosa strana comunque altra notizia di giornata la prima era appunto quella del CPL di Via Corelli la seconda è quella su San Siro Corriere della Sera Milano il Tar non sospende il vincolo sullo stadio Meazza che lo tutela dall'abbattimento i Verdi la Giunta si arrenda rigettata la richiesta avanzata dal Comune di Milano contro la decisione della sovrintendenza fissata un'udienza per il 14 marzo per discutere nel merito della questione noi abbiamo un faro nella notte sì dobbiamo sentire dobbiamo sentire Manguzzi cosa ci dici su questo caso ma in questo caso anche Fedrighini è uscito ah stai leggendo quello ok ok partiamo da Fedrighini Fedrighini ex lista consigliere comunale ex lista Beppe Sala ora misto dopo le vicende che sono successe in consiglio comunale che esulta sostanzialmente perciò e cosa dice Fabio che ce l'hai sotto mano allora dice che il Tar ha respinto in ricorso cautelare proposto dal Comune di Milano finalizzato appunto a sospendere immediatamente l'efficacia del parere espresso dalla sovrintendenza a favore di un vincolo culturale semplice sullo stadio merazza parere che appunto era stato chiesto dal Comune di Milano quindi il Comune di Milano aveva fatto una richiesta per sospendere il vincolo nessuna sospensione però cioè perché in realtà viene respinto il ricorso cautelare ma l'iter va avanti infatti l'intera vicenda verrà comunque esaminata in due tappe dice l'istanza di accesso agli atti è fissata per il prossimo 29 gennaio mentre l'udienza di merito è rinviata al 14 marzo perché dicono i giudici i giudici amministrativi dicono la complessità delle questioni poste dalle parti richiede approfondimenti quindi al momento non c'è un rinvio totale c'è solo semplicemente una cioè l'iter va normalmente ecco diciamo che il Comune aveva chiesto un acceleratore di schiacciare l'acceleratore sul tema quindi bloccare il il vincolo e poi parlarne invece no si va così avanti Antonello Venditti ah no no scusate erano i decolors il sax era quello di Venditti secondo me tanto l'ha detto Antone dammi il sax e si è messo una cosa di l'altro Antone dammi il sax si si il sax fa Antonello Venditti secondo me anche un po' zucchero del primo tempo donne col cucchia col cucchia ma io credo che negli anni 80 tutti avevano usato il sax c'è una povera un timbro di quelle canzoni veramente bello bello strumento un po' abusato forse in quel periodo forse un po' abusato in quel periodo stiamo per andare in pausa andiamo in pausa ci ritroviamo dopo dopo una breve pausa con Tamara Malleo per parlare di teatro tante varie notizie e basta dicci poco dicci poco domani già che ci siamo domani ricordiamo che avremo ai nostri microfoni Ilaria Lamera ossia con lei che ha iniziato la protesta delle tende davanti al Politecnico sul Car of Fit per sensibilizzare sul Car of Fit sulla vita degli studenti universitari eccetera eccetera appena in sinita nella Bocito Dova esatto per questo l'abbiamo chiamata sarà in collegamento con noi quindi non perdete quindi domani preparate le tende che parliamo anche di questo tema parliamo di questo tema più che dell'ambrogino in sé cos'è cambiato cos'è cambiato cos'è cambiato posso spoiler? niente ho paura che sia così va bene andiamo avanti adesso grande musica o doppietta io non so ancora cosa ci sia nel Crystal History ma quella che va adesso è qualcosa di pazzesco i Tears for Fears con Shout eccolo qua il sax vado non ti sento ed eccolo qui il sax questo è Antonello Venditti vedi l'abbiamo chiamato prima non lo sapevo un regalo dell'ufficio programmazione che ce l'ha messo così un bel regalo della mattina e infatti al 331-78-535-555 ci arriva il messaggio Antonello ora si che può partire con questa giornata ora si che si può partire con questa giornata grazie noto un po' di ironia un po' di saccaso no 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 da chi è che si scrive no no secondo me sono fan di non è che sono tanti fan di venditti c'è solo noi io sono eh vedi allora non sono solo io che sono sarcastico con venditti è veramente così sono andato a un firma a copie di venditti sono andato a un firma a copie di venditti alla Mondadori e oltre al fatto di eh fumare dentro la Mondadori si Antonello Venditti ah non male di Duomo di qualche anno fa non di quando si poteva fumare nei luoghi pubblici no 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 ah no no ok no fumava e usava come posacendere un piattino da caffè bellissimo bellissimo è anche una persona molto gentile ho capito e nulla va bene parliamo di teatro parliamo di teatro è giovedì e quindi diamo il benvenuto a Tamara Malleo buongiorno Tamara prego Tamara so che ci sente poco ma per colpa nostra quindi faccio un segno Tamara Tamara è tutta tua la linea vai non ti sento noi sì ok perfetto vai pure va bene vado allora buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Cristal Radio e di Good Morning Milano ciao a Fabio ciao a Lorenzo allora partiamo subito con i tre consigli della settimana perché le feste si avvicinano ma andare a teatro è sempre una buona abitudine allora partiamo subito con il Teatro Fontana che in questi giorni ospita Giuseppe Scoditti Giuseppe Scoditti è un attore che molti conoscono perché fa parte del gruppo che in questi contenuti zero che è in che è stato uno dei protagonisti del Bar Stella su Rai 2 con Stefano De Martino e contenuti zero una compagnia che da tanti anni lavora in teatro e che adesso ha una platea più ampia che quella della televisione Giuseppe Scoditti è stato anche protagonista dell'ultimo film di Moretti come diciamo così giovane regista che si contrappone appunto a Moretti e adesso è in scena a teatro con Paolo Sorrentino Vieni devo dirti una cosa si parte sarà in scena stasera domani sera e sabato sera e praticamente questo spettacolo parte da un rifiuto perché lui ha fatto il appunto un provino con Paolo Sorrentino per The Pop Young ed non è stato preso ed è uno dei grandi no diciamo così che gli attori devono ricevere quel no che servono ricevono e lui da quel no parte per un racconto di come e perché si insegue un grande sogno cosa ci spinge a inseguirlo anche se riceviamo dei no e che cosa succede quando riceviamo dei no quindi chiaramente questo racconto è un racconto molto ironico come Giuseppe Scoditti fa nei suoi spettacoli e peraltro in questo spettacolo è affiancato sia nella scrittura che nella regia da Gabriele Gerez Albanese lo trovate al Teatro Fontana Teatro Fontana che si trova in zona isola quindi metropolitana gialla Zara e quindi Teatro Fontana Giuseppe Scoditti Paolo Sorrentino vieni volevo dirti una cosa potete trovarlo lì fino a sabato poi ci spostiamo invece al piccolo teatro anzi al Teatro Grassi con uno Teatro Grassi quindi siamo in centro a Milano fermata Cordusio fermata metropolitana rossa con una compagnia che ha conquistato il mio cuore che è la Casa d'Argilla è una compagnia le cui anime sono Lisa Ferlazzo Anatoli e Alessandro Ferroni con tutta una serie di attori attrici che ormai lavorano quasi diciamo così sempre con loro quindi con una compagnia fissa e fanno dei lavori molto interessanti su temi difficilissimi sono stati sempre il piccolo teatro con un'anatomia di un suicidio e adesso tornano con il Ministero della Solitudine che peraltro il Ministero della Solitudine in realtà è esistito davvero perché in Inghilterra c'è stato un Ministero della Solitudine che ha avuto vita breve ma che in realtà è stato fondato proprio per cercare di creare un supporto per tutta una serie di esigenze legate alla Solitudine che però non vengono cioè è difficilissimo come si fa a definire che cos'è la Solitudine come si fa a dare dei parametri per capire chi può rivolgersi al Ministero della Solitudine e chi no e infatti ha avuto vita breve il Ministero della Solitudine ma lo spettacolo è rimasto solo è rimasto solo è assolutamente è rimasto solo e infatti in questa narrazione dove ci sono cinque trattori attrici c'è anche una funzionaria di questo Ministero che a un certo punto in qualche modo rimane sola perché non riesce più a capire chi può entrare ma Tamara ma questa però è un'opera di fantasia oppure racconta la storia del vero Ministero no è un'opera di fantasia no chiaramente partono da questo fatto di cronica reale e poi invece narrano la storia di queste cinque anime che raccontano questa è una cosa secondo me molto importante nel senso molto interessante e cinque tipi tipologie di solitudine molto diverse nel senso che la solitudine non è una cosa soltanto è fatta veramente di dettagli è fatta di persone che in realtà nella vita normale in quella in cui si relazionano con gli altri possono non essere definiti soli ma che in realtà poi ritrovandosi con se stessi hanno una profonda un profondo senso di solitudine e questa solitudine secondo me in qualche modo ci riporta la nostra di solitudine perché in realtà tutti noi cerchiamo affannosamente di crearci no una realtà densa di impegni di relazioni di situazioni però poi dobbiamo fare i conti con la solitudine chiaramente una solitudine è sempre molto personale una solitudine è sempre molto poco definibile ecco questa è una cosa che mi piace e la casa d'argilla lavora molto su questo cioè su tutto ciò che è poco definibile poco che rientra poco dentro delle definizioni chiare e quindi è molto difficile da indagare bisogna perché molto spesso la solitudine è raccontata in maniera consolatoria quindi come a dire non c'è problema c'è sempre una soluzione non bisogna soffermarsi su quel senso di disagio invece casa d'argilla entra dentro il disagio e ci permette di entrare con loro dentro quel disagio e entrare dentro il nostro di disagio che teniamo sempre un po' a parte dove ricordiamo bene questo? Teatro Grassi quindi centro di Milano piazza Corduzio praticamente quindi metropolitana rossa facilmente raggiungibile e poi siccome la settimana scorsa avevate in studio Elena che giustamente mi ricordava che in realtà che ha dei figli che ha una missione ha una missione di civilizzazione verso quelle due capre dei figli no mi ricordava che i ragazzi e le ragazze sono sempre insomma il teatro lo vediamo sempre come qualcosa di imposto però se si inizia presto ad andare a teatro probabilmente potrebbe diventare un'abitudine e quindi mi son detta perché non parlare di un teatro che ha una programmazione specifica per ragazzi e ragazze dai praticamente dai zero anni quindi dai proprio dai primi mesi fino ai sedici diciassette stiamo parlando del teatro del buratto il teatro del buratto ha una tradizione insomma che arriva da lontanissimo adesso hanno fatto una sede nuova diciamo così che è la sede del teatro Munari e quindi ci sono due sedi una in via Pastrengo e che è quella tradizione diciamo così quella ormai tradizionale e quella nuova del teatro Munari in questo caso proprio vi racconto uno spettacolo la conta di Natale che si trova appunto al teatro al teatro Munari metropolitana Dergano sì credo che ok perché io sugli accenti ho sempre delle difficoltà questa è la facile questa anche questo facilmente raggiungibile con la metropolitana la conta di Natale dai tre anni in su quindi ha un linguaggio legato soprattutto al teatro di figura quindi ha un linguaggio più adatto a bambine e bambine un po' più piccole perché cerca anche di coinvolgerli molto quindi è praticamente un calendario dell'avvento in cui i bambini e le bambine sono coinvolte attraverso filastrocche attraverso canzoni attraverso una partecipazione diretta perché appunto gli spettatori e le spettatrici più giovani se coinvolte sicuramente partecipano più alla storia e quindi si sentono più dirette e quindi il teatro del buratto comunque vi consiglio ha una programmazione legata soprattutto a un pubblico giovane diciamo così molto giovane ok Masiri tu no tu no Masiri non sei abbastanza giovane ma no neanche neanche all'età di 12 anni era giovane infatti io sono rimasto al primo consiglio di Giuseppe Scoditti perché è stato citato Nanni Moretti manco a dirlo sono grande fan di Nanni Moretti ma che storia chiaramente e mi ha ricordato una scena incredibile dell'ultimo film molto teatrale Tamara non so se l'hai visto correggimi nel caso dove si parla di violenza e appunto Scoditti che fa il giovane regista che ha una concezione di violenza spettacolare eccetera e Nanni Moretti che fa il contraltare un po' più anziano un po' più anziano un po' più maturo diciamo dove invece vede la violenza come un qualcosa di superiore che deve essere più psicologica che è un mero sparo hanno anche proprio una visione diversa della narrazione cinematografica costruiscono il film in maniera molto diversa e questo per Nanni Moretti diciamo così è impensabile e quindi c'è questo forte contra mentre insomma il personaggio che porta Giuseppe Scoditti è un personaggio molto più irriverente non ha tutta questa diciamo così questo rispetto per la tradizione cinematografica per lui quello è il cinema quello che sta raccontando lui quindi c'è questa contrapposizione fortissima recuperalo avete fatto il mio voglio di andarlo a vedere allora va bene recupero le robe perché questo mi banca c'è su una piattaforma alla fine pur essendo contro le piattaforme sostanzialmente si trova su Sky però io l'ho visto al cinema io l'ho visto al cinema va bene meno male che ci siete voi due eh bene Anni Moretti beh ricordiamo il titolo il sol dell'avvenire visto la cortellesi al cinema ma quando parlavi di violenza ho pensato ad esempio a una scena topica epica di quel film che appunto parla della violenza in quella maniera in cui invece magari Anni Moretti la vorrebbe raccontare appunto Tami tre consigli uno migliore dell'altro diciamo che insomma siamo sempre ben consigliati della buona Tamara Malleo allora noi vi consiglio anche un'altra cosa che se state pensando ai regali di Natale regalare uno spettacolo teatrale significa anche condividere una serata insieme significa anche per chi non è appassionato magari scoprire il teatro però secondo me regalare un'esperienza secondo me è sempre un bellissimo regalo per dare un consiglio ecco 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 bene 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 e allora Tamara grazie mille del consiglio e dei consigli anzi in questo caso noi ci vediamo giovedì prossimo ma io ti sento un po' attratti Fabio quindi allora ti salutiamo faccio il mimo ho fatto un corso di LIS ma non mi è servito a niente quindi chiedo scusa alla mia maestra di LIS lingua dei segni che non lei spiegava molto bene ma io non ero molto attento quindi chiedo scusa però bigiavi no no si l'ho preso da altro quindi chiedo scusa Tamara grazie mille ci vediamo giovedì prossimo allora va bene va benissimo buona settimana ciao ciao Tamara ciao e allora grazie mille ancora Tamara Malleo ci vai a teatro quindi sono molto interessato al primo al primo molto interessato indipendentemente appunto dall'attore ti ha attirato tanto quello ti piace come come proposta va bene allora andiamo con un po' di musica poi dopo piccola pausa e poi siamo di nuovo qui con voi sempre qui su Crystal Radio Good Morning Milano come sempre dalle 7 alle 9 Good Morning Milano raccontiamo di tutto e di più e andiamo avanti quindi un po' con la buona musica di Crystal Radio NSYNC meglio o più conosciuti come Justin Timberlake Better Place posto migliore posto migliore traduciami quello prima e non ci sarebbe posto migliore per me che essere qui al tuo fianco che paradossima ma perché ma no ma perché ma perché mi dite tutte così perché tutte voi con cui io sono così gentile mi dite così non capisco io comunque stavo facendo una cosa sai che è arrivata la nostra nuova producer del programma sai come si chiama? Viola perfetto sai chi altro ha una producer che si chiama Viola? eh no Fabio Volo quindi attenzione che siamo sulla strada giusta per fare il botto io ve lo dico cosa vuol dire? io ve lo dico Viola rimarrà qua per sempre perché non potrà andare perché siamo sulla strada buona per fare finché Fabio Volo non licenzierà la sua Viola no fa niente ma va bene ma a quel punto noi è come è un binomio indissolubile come come indissolubile come Mike e Antonellina chi è Mike Antonellina? Antonellina quella che girava no so che Antonellina è Mike e Mike buongiorno come ci poteva arrivare con Mike e Antonellina? vabbè perché se non sei pensa non sei vecchio così abbastanza per capire queste robe vabbè il fatto che conosca Antonella e Elia già vuol dire fantastico l'ho sempre amata già vuol dire io ho le sue foto sulla Sbemo esisteva la Sbemoranda? ma sei scemo sì che esisteva la Sbemoranda pensavo fosse una cosa relativamente recente ma no tipo del 70 e qualcosa 78 mi sembra il primo numero della Sbemoranda una cosa del genere non pensavo proprio ma no assolutamente esisteva già Antonella e Elia sì è un pochino più grande di me Antonella bellissima bravissima ti adoro tantissimo Antonella se mi ascolti scrivimi in privato sì 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 avevo le foto di Antonella e Elia poi di quelle di Nonella Rai però non mettevo Ambra perché Ambra all'epoca non mi faceva era troppo mainstream allora in realtà c'era una mia compagna di classe che assomigliava ad Ambra che assomigliava un po' ad Ambra aveva i capelli così un po' alla marfalda un po' ad Ambra all'epoca aveva il caschetto un po' io innamorato perso di lei lei non mi ha mai cagato di striscio salutiamo Eleonora se ci sta ascoltando in questo momento e quindi mettevo le foto di Francesca che era un'altra un'altra di Nonella Rai sì capello corto ho sempre avuto questa passione per il capello corto non ce l'ho non ce l'ho ma le nostre miserie della giornata no ma poi robe piccole che non c'è tutta sta roba proprio così nuovo piano cioè nuovo piano si intensifica il piano sicurezza sotto Natale più attenzione a tutti i luoghi pubblici e prevenzione sulla vendita di fuochi e botti illegali quindi un piano speciale di vigilanza e sicurezza in vista delle festività natalizie che comportano una maggiore affluenza di persone nei luoghi pubblici attenzione speciale ovviamente per i luoghi di culto come il Duomo e Sant'Ambrogio normale è sempre così un po' devono anche prepararsi al Capodanno ricordiamo che non ci sarà il concerto di Capodanno in Piazza Duomo perché tra le varie cose costa anche un milione di euro costa un milione di euro l'ha detto il sindaco Sala e ha detto che è meglio indirizzare soldi visto che non è che ce ne siano tantissimi sul welfare mi pare che abbia detto così sulle politiche di welfare quindi diciamo bene così c'è anche la vicenda sicurezza sappiamo benissimo cosa è successo qualche anno in Piazza Duomo sappiamo benissimo che non fare il concerto non equivale al fatto che non possano accadere robe del genere e capiremo capiremo l'anno scorso mi pare che è andato tutto bene quindi speriamo in bene intanto c'è Giovannotti sì con una tensione che si evolve perché è la quella che arriva adesso sono evolutiva ho fatto un casino volevo fare un bel lancio ma non mi è venuto non sono Fabio Volo 8.45 Cristal Radio Good Morning Milano la musica va avanti e il vostro cuore pompa sangue nelle vene continuate a uscire in città che tu sia a Gazzello Leone ogni mattina a Milano svegliati e incomincia a correre e uno muore però no vabbè l'aria è pulita no che gancio che gancio come te l'ho alzata vai schiaccia adesso adesso facciamo una segna veloce 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 sui dati su vari dati tra l'altro diversissimi però 50 microgrammi per metro cubo è il limite di PM 10 di PM 10 ieri si è registrato 52 quindi sostanzialmente una presenza di polveri sottili maggiore rispetto a quello consentito posso dire una cosa però siamo in ritardo rispetto agli altri anni sì nel senso che gli altri anni di solito già a metà ottobre il PM10 schizzava a livelli assurdi quest'anno no nel mese di dicembre forse le caldaie nuove qualcosa servono nel mese di dicembre i valori di smog oltre la soglia sono stati solamente 3 l'anno scorso io in questo momento stavo producendo il telegiornale di milano news e non dico quotidianamente però quasi c'era la notizia su una soglia di PM10 superiore a quella consentita altri dati sono stati oltre 3 milioni li visitatori che quest'anno sono entrati nel duomo di milano è ciò che è stato comunicato dal presidente della veneranda fabbrica fedele confalonieri niente fedele confalonieri è il presidente della veneranda fabbrica? si ah questa cosa non la sapevo o meglio molto probabilmente me l'ero persa o l'avevo cancellata dalla mia mente volontariamente? può essere volontariamente ma bene però non lo so no un saluto alla fedele ultimo grande grande notizia diciamo anzi piccola notizia per quanto riguarda i numeri riguarda il padel in Lombardia sono un due tre cinque settimane che non vado a giocare a padel cinque settimane i grandi numeri del padel in Lombardia titola Milano Today perché perché abbiamo un 25% 25% di strutture in più rispetto all'anno precedente cioè il padel sta correndo veramente a livelli incredibili in varie città in tutto il mondo quello che volete ma faremoci chiaro principalmente a Milano perché è il tipico sport da milanese è il tipico sport da milanese è il tipico sport la regione oggi conta complessivamente regione regione 376 strutture sportive dedicate al padel ok 376 25 in più rispetto all'anno precedente quello che comunica all'osservatorio mrpuddlepuddle.com immagino che di questi 376 non c'è scritto quanti sono a Milano però ovvio i dati completi mai non ho letto tutti 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 i dati non hai snocciolato tutti i dati comunque dove lo troviamo sto articolo su Milano Today Milano Today fatevi un giro datevi un'occhiata assolutamente comunque questo per sottolineare come veramente stia galoppando io non posso avere memoria e non credo ci sarà nel breve periodo uno sport che viene fuori ce l'ho ce l'ho lo squash aveva fatto la stessa intima cosa negli anni 80 in fine anni 80 così tanto si adesso non voglio parlare ovunque il calcetto poi anche tu sei in un'epoca dove per te il calcetto è una cosa assodata che esiste ma per me io ho visto invece nascere i campi da calcetto non c'erano prima ma la proliferazione si si se ci pensi adesso molti di quelli in realtà sono campi da calciatto convertiti tantissimi in Bovisa c'era una bocciofila adesso non c'è più la bocciofila c'è il Puddle Club Bovisa devo venire a giocarlo ci devo venire a giocare allora ah dove abiti tu no non abiti la media la media da nord a sud quindi questa mi pare che sia media italiana è un campo ogni poco meno di 7000 abitanti quindi è tantissimo si 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 calcoli che ci sono in mezzo le colline da Toscana la Val Brembana sono tantissime sono tantissime isole comprese poi 40% da nord a sud era ovvio che era da nord a sud dalla Lombardia da Storundro a Manto ma cioè non capito cosa pensavi è ovvio che sia a livello fatto a livello nazionale ah ok va bene a livello nazionale sono invece Nugenea che nascono in quel di Napoli ma poi vanno fino a Berlino per fare la loro splendida musica e li tieni a te Nugenea con tieni a te appunto sai noi sono un duo che nasce in quel di Napoli sono napoletani incontrati a Berlino producono una musica e saltano fuori con questi pezzoni che insomma ci fanno ballare da tempo io non li conoscevo li ho messi una sera sotto in sottofondo per studiare per studiarci sopra ho apprezzato apprezzato bene 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 apprezzate anche il fatto che è arrivata la fine di questa puntata ok vi liberate di noi per questa mattina anche se domani comunque torniamo qua perché siamo sempre con voi dalle 7 alle 9 su Cristian Radio con Good Morning Milano sigla grazie a tutti i nostri amm Grazie a tutti.